Un curioso appello che Fulvio Abate, assieme a niente popò di meno che Carlo Verdone, hanno fatto per la nostra città di Roma. Guardiamo questo filmato, ci prendiamo un momento per sorridere e poi ritorniamo. Praticamente è una guida ai cessi di Roma, ai cessi per strada di Roma. Io ne sento la mancanza, avendo vissuto gli anni 60, vi posso dire che erano molto utili. Poi è chiaro che la notte qualcuno entrava là dentro, chiude uno e diventarono dei mini casini. Oggi i cessi non ci sono più, hai le barre, quindi o non ti danno la chiave o ti dice guasto, oppure malvolentieri ti ci mandano. Quindi è un problema. Io per carità sono di quelli che dice rimetteteli con una monetina di qualche centesimo per fare i vostri bisogni, anziché andare dietro le macchine e dietro il pallone.